Ciao carissimi, i nostri mezzi di informazione occidentali, la stampa, i telegiornali, in questi giorni parlano molto del pericolo delle navi russe che si trovano nel Mediterraneo, nel Mar Ionio, che dal Mar Nero lanciano i missili contro l'Ucraina. Di recente anche c'è stata una notizia che un po' ha preoccupato molti funzionari della Nato, ovvero i russi hanno organizzato le esercitazioni navali con nuove navi prodotti di recente, le navi che portano i missili personici, quindi si tratta di un incremento della struttura militare russa, la sua spinta anche verso i territori occidentali e ovviamente questa cosa preoccupa molti. Io sono contrario in ogni caso a qualsiasi espansione del potere militare, secondo me non c'è niente di bello nel fatto che gli uomini investono i soldi nella produzione delle macchine che servono per uccidere gli esseri umani e questo succede mentre noi come specie abbiamo bisogno di investire soldi in altre sfere dove magari possiamo aiutare la scienza di sconfiggere le malattie oppure risolvere il problema della fame, della povertà nel mondo perché noi comunque continuiamo a essere ancora governati dall'1% della popolazione che è più ricca e quindi questa situazione con le navi secondo me non è una cosa bella, non è una cosa positiva, io sono d'accordo con chi condivide queste opinioni, di chi si preoccupa, però allo stesso tempo a mio avviso è molto importante ricordare che in questa fase noi guardiamo la Russia ovviamente con lo sguardo occidentale, degli occidentali, secondo nostri mainstream i russi sono cattivoni che stanno incrementando la loro macchina bellica, i nostri politici anche spesso parlano del fatto che i russi vogliono invadere l'Europa, quindi c'è questo terrore di questa invasione russa che a mio avviso è un po' esagerata e anche secondo me è un modo ignorante di ribaltare la storia perché insomma i russi non avrebbero fatto niente di ciò se la Nato non si sarebbe spinta verso i loro confini dopo il crollo dell'Unione Sovietica, bastava sciogliere la Nato, instaurare con i russi un rapporto onesto, un rapporto di collaborazione, di cooperazione, far sì che i russi possano sviluppare la loro linea della politica, dell'economia all'interno del loro paese, condividere con loro le tecnologie, prendere da loro le risorse di idrocarburi e secondo me il mondo occidentale poteva coesistere tranquillamente con la Russia, però siccome agli oligarchi anglosassoni non conviene assolutamente far crescere l'Europa, quindi questa guerra, questo terrore che loro seminano in Europa occidentale, soprattutto attraverso il mainstream in media, quella russofobia è dovuta soprattutto alla loro necessità di separare la Russia dalla vecchia Europa per evitare la loro reciproca crescita e collaborazione. Queste navi comunque con questi nuovi missili personici è chiaro che sono un pericolo comunque, sono un pericolo per noi, sono un pericolo per chi teme la Russia, per chi si oppone diciamo a livello geopolitico alla Russia ed è chiaro che la propaganda occidentale mette molta attenzione su questo argomento. Comunque vorrei vorrei pensare, ragionare su un aspetto che di solito non viene mai messo sotto la luce, sotto riflettori, non viene mai sottolineato, che è molto importante secondo me quando noi parliamo del pericolo di aggressione militare di un paese o pericolo di presenza militare di un paese nei nostri territori, ovvero secondo me noi siamo molto attenti a quello che è la minaccia russa come la vediamo noi, ma noi non vogliamo mai accettare il fatto che l'Occidente, gli Stati Uniti d'America, gli Stati Uniti d'America in primis, in realtà è visto dalla gran parte del mondo come l'aggressore. Quindi noi viviamo nel mondo, nel nostro mondo occidentale, dove noi intanto ci consideriamo noi stessi il fulcro dell'umanità, gli altri paesi li chiamiamo addirittura paesi di terzo mondo, abbiamo deciso noi che siamo noi il primo mondo e loro sono addirittura terzo mondo. E noi non riusciamo a capire che ad esempio la sesta flotta che gira, si aggira negli oceani, se sta flotta americana, le navi, gli aerei americani, non fanno piacere gli altri paesi. Quindi quando noi temiamo delle esercitazioni russe o le nave russe nel mar Nero vicino all'Ucraina, oppure nel mar Ionio, oppure nel Mediterraneo e creiamo attorno a queste faccende tutta una polemica che è giusta, come ho detto prima, secondo me è sacrosanto temere e non essere contenti che la nave di un altro paese, la nave militare carica di missili, si trova nelle acque vicino alle nostre coste. Ma allo stesso tempo, secondo me è giusto riflettere su come si sentono altri paesi, quando le nostre navi, quando le navi dei nostri aliati si trovano vicino alle loro coste, minacciano la loro politica. Secondo me noi abbiamo una visione di geopolitica molto egocentrica, molto incentrata sul nostro ego occidentale. Mentre in realtà per capire come funziona il mondo e trovare una giusta via di mezzo nelle relazioni internazionali è importante staccarsi da questo punto di vista e cominciare a ragionare come ragionano gli altri. I russi giustamente si trovano in una situazione che secondo la loro propaganda, secondo il loro punto di vista, è una terza guerra mondiale. Loro spesso ripetono anche sui loro canali, nei loro giornali, che loro si trovano adesso in una guerra contro l'Occidente complessivo, contro la Nato. Quindi secondo me non c'è niente di strano, non bisogna sorprendersi se loro cercano in qualche maniera di mostrare che sono in grado di essere presenti anche nei nostri mari, anche vicino alle nostre coste. E' chiaramente un giocare con i muscoli che in questa fase di situazione geopolitica è più che comprensibile, non dico che è accettabile perché comunque giocare con i muscoli, soprattutto con le armi, secondo me non è giusto, non va bene quando lo fanno americani e non va bene quando fanno i russi perché secondo me la politica dovrebbe funzionare diversamente. però i russi stanno facendo questa cosa perché secondo loro, nella loro visione della strategia, è necessario dimostrare all'Occidente che loro sono in grado di fare certe determinate operazioni. Cioè i russi in realtà cercano di dimostrare all'Occidente che anche loro sono capaci con le proprie navi arrivare alle nostre coste, che anche loro sono capaci di mantenere una presenza militare nei mari e negli oceani. Loro non fanno niente di quello che gli Stati Uniti d'America non hanno già fatto. Anzi, i russi per ora non hanno per fortuna utilizzato l'arma nucleare perché loro parlano, parlano di questa, di minaccia, diciamo fanno minaccia di minaccia delle armi nucleari, usano questa retorica spesso anche molto offensiva nei confronti di noi occidentali. Però dall'altro canto, loro l'arma nucleare non l'hanno mai usata. Gli unici ad usare l'arma nucleare e l'unico sistema che tutto il mondo teme sono gli americani. Gli americani sono stati quelli che hanno sganciato le atomiche sulla popolazione civile del Giappone. Gli americani sono stati quelli che dopo la seconda guerra mondiale, con la guerra finita, hanno massacrato e bombardato più paesi nel mondo. Cioè non c'è stato un altro paese che ha bombardato nel secolo passato e nel secolo nuovo così tanto quanto lo hanno fatto Stati Uniti d'America. E qui mi domando, ma come facciamo noi a parlare della minaccia russa quando i nostri diretti alleati, o meglio dire i nostri padroni, perché gli americani sono i padroni del mondo occidentale, parliamoci chiaro. Quando loro decidono qualcosa, gli altri lo fanno. E lo fanno ad esempio in Italia, i nostri politici fanno quello che dicono i politici americani, anche andando contro gli interessi nazionali, contro la volontà dei cittadini, contro il loro credo politico anche, lo fanno perché gli americani sono presenti sul territorio italiano con la loro macchina bellica. Quindi c'è una diretta minaccia militare. Noi non possiamo dire no agli americani perché loro ci hanno occupato, perché loro stanno qua. È una forza di occupazione questa. E ovviamente se noi ragioniamo come i sudditi, come i sudditi degli americani, è ovvio che la Russia ci fa paura e le sue navi ci fanno paura. Se noi invece proviamo a ragionare come persone libere, che fanno parte di un mondo libero, un mondo fondato sul diritto internazionale, un mondo fondato sull'onestà e su una politica trasparente, prima cosa di cui noi dovremmo temere siamo noi stessi, i nostri paesi, i nostri governi, le nostre macchine belliche e soprattutto il grande sceriffo del mondo, il rappresentante dell'Occidente complessivo che sono gli Stati Uniti d'America. Di questo paese bisogna avere timore, non di una Corea della situazione, una Russia o una Cina, perché questi paesi non hanno ancora fatto niente di così grave, anche se hanno i loro trascorsi, per carità, a livello geopolitico non c'è nessuno che si salva, tutti hanno, diciamo, qualche peccato sull'anima, però gli Stati Uniti d'America in questa situazione sono proprio, se può dire, i proprietari dell'inferno. Per cui io questa situazione con le navi russe nel Mediterraneo, sì, la vedo come una cosa negativa, la vedo come una cosa preoccupante, mi dispiace molto che la guerra va avanti e che siamo di nuovo nella dinamica che mi ricorda molto la corsa agli armamenti durante la guerra fredda tra l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti d'America, però allo stesso tempo di più mi preoccupa l'incapacità di molti occidentali di vedere la situazione in maniera obiettiva. Noi abbiamo purtroppo una visione molto egocentrica, molto legata alla posizione statunitense e questa cosa danneggia, danneggia la nostra libertà, danneggia la nostra capacità di analisi e sicuramente ci allontana la prospettiva della pace. Io spero comunque, come tutte le persone credo che hanno buon senso, un minimo di buon senso, io spero che questa guerra finisca al più presto, che si mettono d'accordo, che smettono morire le persone da una parte e dall'altra e soprattutto che i potenti di questo mondo, una volta per tutte, smetteranno di usare le guerre per risolvere i loro problemi o per raggiungere i loro obiettivi. Secondo me l'essere umano deve imparare e aprire le nuove strade nella politica, nella geopolitica e allontanarsi dal degrado bellico. Grazie carissimi, vi mando un forte abbraccio.